Niccolò, domanda doppia subito. Che stagione pensi possa essere per te dopo aver dimostrato l'anno scorso che nella Juve ci puoi stare? E se ora la quarta giornata la Lazio comincia a essere il primo vero esame per capire chi siete? Sì, la Lazio sabato sarà una partita tosta, ce l'aspettiamo perché ha fatto una buona stagione con il Napoli la giornata prima e viene dato sconfitte prima di Napoli. Dalla partita tosta noi ci siamo concentrati per prepararla al massimo e vedremo questa volta il risultato come era ancora. Senti, è il caso della settimana, dal suo compagno di squadra quanto ti dispiace per Oba, come la sta vivendo, come la state? Sì, non è una questione di cui parlo, perché noi siamo concentrati solo sul campo e il nostro obiettivo è vincere la Lazio sabato. Senti, avrete un impegno a settimana, molti dicono che sarà un fattore per voi per poter lottare per lo scudetto. E' una parola che avete pronunciato, che pronunciate nello scogliatovo questa? No, al mister ci ha chiesto di arrivare nei primi quattro posti e l'obiettivo adesso è arrivare al quattro dicembre e arrivare in quattro posti, questo è il nostro obiettivo. La nostra nazionale è un nuovo CT, tu sei uno degli emergenti, sei italiano, sei giovane, hai tutte le carte in regola per poterti candidare, è un obiettivo, un sogno che sei? Sì, il mio sogno è sicuramente quello di andare agli europei o che sei stato. Il mister è veramente molto carattissimo, ovviamente sono io che devo dire, ho veramente un'ambiente da me, l'anno scorso per Napoli, lo danno un calcio bellissimo e quindi l'azionale è un'ambiente individuale, sì. L'ultima? Sì, diciamo che io ti vedi alla Juventus, c'è la volontà di vogliare ancora lui con la Juventus. Sì, sì, questo è la volontà. Grazie. Grazie, arrivo.